Professore, lei ha inoltre auto richiesta di emissione di Franco Bollo sul tetradramma di Gela, ma non è la prima richiesta. Devo fare una piccola osservazione. Tutto quello che fa l'Archeoclub, compresa la richiesta del Franco Bollo, è quella di portare, quando più possibile, alla ribalta la città di Gela, per farla conoscere sotto l'aspetto dei beni culturali. Ecco, fatta questa premessa, dico subito che nel 99, come Archeoclub, abbiamo fatto la richiesta per l'emissione di un Franco Bollo sul tetradramma di Gela. Poi, onestamente le dico, non avendo avuto nessuna risposta, ho dimenticato tutto. Però, recentemente, facendo una ricerca su internet, sui Franco Bolli, sulle cartoline... Ha fatto una bellissima scoperta. Ha fatto la scoperta che la Repubblica della Nigeria, la Repubblica Africana della Nigeria, ha emesso un Franco Bollo con l'immagine della moneta di Gela, del tetradramma di Gela. Qual è stata la sua reazione, professore, quando ha fatto questa scoperta? È di stupore, di stupore perché lo Stato italiano, su richiesta dell'Archeoclub, aveva omesso totalmente tale situazione, mentre lo Stato, la Repubblica della Nigeria, facendo una ricerca nella tematica dei beni culturali a livello mondiale, ha ritenuto di trasformare la moneta di Gela in Franco Bollo. Quindi, di conseguenza, lo Stato africano emette il Franco Bollo con la moneta di Gela, lo Stato italiano nemmeno risponde alla richiesta. Pertanto, non ho fatto altro che reiterare questa stessa richiesta. Ci troviamo veramente dinanzi ad un vero e proprio paradosso, in cui magari gli italiani stessi ignorano quello che è il patrimonio inestimabile, storico del nostro paese e magari invece qualcun altro all'estero li apprezza invece in maniera importante. Sì, purtroppo il paradosso grottesco è proprio questo. Si aspetta adesso delle risposte positive. Ma io sono convinto che se dietro la richiesta dell'emissione di Franco Bollo non c'è la solita raccomandazione del politico o di qualche personaggio importante, sono convinto che questo Ministero dello Sviluppo Economico forse la cestinerà subito. Mi vorrei sbagliare ma penso che farà una cosa senza dubbio negativa per la città di Gela ma anche per loro stessi.